Benvenuti su Ultimissima. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Bill Walton, ex giocatore di basket statunitense, è morto a 71 anni. Lunedì, la sua famiglia ha annunciato che Walton, uno dei migliori centri nella storia del basket americano, è deceduto dopo una lunga battaglia contro il cancro. Walton iniziò la sua carriera nel basket universitario, conquistando due titoli nazionali con gli UCLA Bruins. Dal 1974 al 1987, giocò in NBA, il campionato professionistico di basket degli Stati Uniti. Iniziò con i Portland Trailblazers, poi passò ai San Diego Clippers, che in seguito si trasferirono a Los Angeles, e terminò la sua carriera con i Boston Celtics. Nel 1993, venne inserito nella Nesmith Memorial Basketball Hall of Fame, un riconoscimento che celebra coloro che hanno significativamente contribuito allo sviluppo e alla popolarità del basket. Nonostante fosse balbuziente, Walton intraprese una carriera di successo come commentatore sportivo dopo il ritiro. Vinse un Emmy per la migliore trasmissione televisiva sportiva dal vivo. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!